Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino è intervenuto a muso duro sulla pesante crisi che attanaglia il settore dell'editoria. Ha contestato senza peli sulla lingua il Governo nazionale, il Movimento 5 Stelle e la Regione. Rischiamo la chiusura di alcuni storici organi di informazione e di conseguenza neanche l'Ordine dei giornalisti avrebbe motivo di esistere. Ha dichiarato Cimino. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Riflettori sempre accesi sulle tante crisi del sistema produttivo e in particolare sulla crisi dell'editoria dove sono a rischio posti di lavoro e diritto dei cittadini a essere informati mentre le istituzioni non rispondono alle richieste della categoria. Duro l'attacco frontale sferrato dal consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino contro il Governo nazionale, contro il Movimento 5 Stelle e contro la Regione. Il Presidente mi vede? Sì. Rischiamo che alle 7 domani mattina la rassegna stampa non esce più, che alle 14 i telegiornati di questo emittente lei non lo ascolta più. Dobbiamo trovare una soluzione immediata perché è a rischio il pluralismo di questa Regione. Basta che chiude un quotidiano, una televisione o una radio e non ha nemmeno luogo di esistere l'Ordine del Molise perché non rappresenterebbe più nessuno. Per quanto riguarda il nazionale, il Governo si era impegnato insieme alla delegazione dei geni del Molise, i nostri eroi, la delegazione parlamentare dei 5 Stelle del Molise. Si erano impegnati davanti all'Ordine dei giornalisti e all'Asso stampa a modificare il regolamento per i fondi nazionali. Non mi risulta che questo regolamento sia stato modificato, anzi hanno votato il taglio dei fondi. Quindi queste emittenti, come altre emittenti, hanno visto quasi azzerato il loro contributo nazionale. E quindi i fondi dove li devono andare a prendere? Quindi gli stessi grillini del Consiglio regionale Molise, sei consiglieri regionali, avessero fatto qualcosa per l'editoria di questa Regione. Nulla, nemmeno un nominativo da indicare al Correcom, nemmeno quello hanno fatto. Ma quali sono le sue proposte? Sblocco immediato del primo bando. Ci vorrei che la gente capisse che stiamo chiedendo i fondi annualità 2014 e stiamo a marzo 2019. Sblocco di tutte e tre i bandi ancora pendenti in base alle modifiche di legge. Il contributo della legge 11, caro Presidente Toma, di un milione che poi sono 985 mila, non basta. Ce ne vuole di più, almeno un milione e mezzo, se non due. Dunque, quarta cosa, il contributo dei 40 mila euro, il divieto, va abolito, ex tunc. È impossibile perché o il principio esiste, cioè non puoi prendere il nazionale insieme ad altri contributi, ma se il principio non esiste, il limite va abolito, va cassato, perché è un'ingiustizia. Inoltre, un tavolo di confronto con gli editori e i direttori responsabili dei giornali e soprattutto la premialità. Cioè, io dico, chi deve prendere questo contributo regionale? Chi assume di più? Chi offre un prodotto serio? Chi ha una copertura regionale? Chi lavora? Chi produce? Allora sì che c'è un ritorno per la comunità, per i cittadini in base a un prodotto editoriale, ma chi non ha una copertura? Le aziende che non sono serie, che non sono produttive, non ne hanno secondo me i diritti. Quindi, viva chi assume, viva chi trasforma i contratti da tempo parziale a tempo pieno e viva chi fa un'informazione seria. I contributi a sostegno delle imprese editoriali vanno sbloccati subito, lo hanno ribadito i due consiglieri dell'Ordine regionale dei giornalisti, Antonio Lupo e Domenico Bertoni, hanno scritto al presidente della regione, Toma, sollecitando un incontro urgente e sottolineando che il settore della stampa sta attraversando una crisi profonda ed è ormai agonizzante. In alcune aziende hanno spiegato sono in partenza diverse lettere di licenziamento, queste aziende editoriali sono ormai in fase di smantellamento. Secondo i due consiglieri dell'Ordine appare assurdo che ciò accada dopo che la regione ha previsto estanziato, hanno scritto contributi proprio per contrastare la crisi, i fondi al momento però inutilizzati nel rispetto delle sue prerogative, hanno detto testualmente il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Pina Petta, certamente si farà carico di concordare con Toma questo incontro urgente insieme all'assessore Cotugno, con la partecipazione dei consiglieri dell'Ordine e dei delegati all'editoria Alfonso Stick e Giovanni Cannarsa. I tempi della burocrazia hanno rimarcato, Lupo e Bertoni, se vogliamo salvare il destino dei giornalisti e delle loro famiglie, devono essere superati da iniziative immediate e concrete e hanno concluso che all'incontro urgente inviteranno anche il presidente nazionale dell'Ordine, Verna. Aziende in crisi e Molise in ginocchio, se ne è parlato nell'ultima puntata di Moby Dick, tra i temi affrontati anche la drammatica situazione dell'editoria. Sentiamo. ITR, Zuccherificio, GAM, Corai, Formazione Professionale Molise-Dati e da ultimo la pesante crisi che ha colpito anche il settore dell'informazione. Da quanto è dato sapere, manca una strategia della regione per fronteggiare le crisi produttive che da anni devastano il Molise. L'argomento è stato affrontato nella puntata di Moby Dick, nel corso della quale non sono emerse proposte concrete, tranne quelle avanzate dall'ex governatore Michele Iorio, che ha annunciato leggi regionali per la formazione professionale e gli ex dipendenti delle società partecipate, rimasti senza lavoro, e ha attaccato il governo nazionale che non tiene in considerazione le esigenze del Molise. Io sono disposto ad andare insieme a loro a Roma a dichiarare lo scandalo di quello che sta accadendo in quest'area di crisi complessa. Perché due aree di crisi complessa sono state finanziate, il Lazio e la Sardegna e il Molise no? Qual è la ragione che i disoccupati di tutta Italia godono di un provvedimento di sostegno sociale? E noi, in area complessa, diciamo che all'ITR non spetta più la mobilità perché c'è stata un'interruzione che non dipende da loro, sicuramente. Poco gradevole la guerra tra poveri venuta fuori, tra i dipendenti della GAM che attendono ancora la copertura dei sei mesi di cassa integrazione per quest'anno e gli ex lavoratori della ITR che non riescono a percepire la mobilità in deroga. Il Toma dice che non si possono più toccare perché quelli non sono solo per voi ma servono anche per coprire la cassa integrazione della GAM. Se ci devono raccontare a me ignorante le fesserie, io non ci sto. Per questo abbiamo lottato e finalmente ottenuto un consiglio monotematico. Ma io in quella sede adesso capirò che è contro i lavoratori e che è pro i lavoratori. Duro l'affondo del presidente di Assostampa Molise, Giuseppe Di Pietro, nei confronti delle istituzioni, regione e prefettura che non si sono attivate per avviare il confronto reiteratamente richiesto allo scopo di affrontare la pesante crisi che sta attraversando il settore dell'editoria e che mette a rischio posti di lavoro e diritti garantiti dalla Costituzione. Noi abbiamo combattuto le leggi ad aziendam ma anche quelle contra aziendam. Non ci vanno bene, ma non vanno bene ad un assetto democratico e civile della comunità. Si parla di soldi pubblici. I soldi pubblici devono essere attinti in maniera equa, automatica, senza discrezionalità e senza impedimenti. Questo non lo è stato e parliamo in particolar modo anche di questa testata che è stata fortemente penalizzata da quella legge. Ora, cosa è accaduto? Che c'è stata questa interpretazione autentica. Guarda caso la Prefettura di Campobasso rivendica la possibilità di chiedere al Governo di impugnare questa interpretazione autentica. Interpretazione autentica non è avvenuta in altre situazioni. Mi dicono che c'è stato, qui il Presidente Iorio ci può aiutare, anche una modifica ai regolamenti per esempio sui gruppi. È stato creato il gruppo addirittura del presente della Regione. Non mi risulta che la Prefettura abbia impugnato un'interpretazione autentica di quel tipo. è possibile che per fare una interlocuzione, per prospettare delle contradduzioni, per portare delle argomentazioni giuridiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ci voglia così di settimane e non si sa quante ce ne vorranno ancora. Hanno partecipato al dibattito anche i delegati della GAM, Giancarlo Dilio e Mariano Russo, la responsabile della formazione professionale della UIL, Giovanna Veleno, il delegato di Molise Dati, Franco Pagliani, il segretario della CGL Franco Spina, l'ex operaio dello zuccherificio Francesco Milazzi e l'assessore regionale al lavoro Luigi Mazzuto. L'antica cattedrale di Boiano non è riuscita a contenere tutta la gente che ha voluto salutare per l'ultima volta. Anna-Lisa Laudati, 41 anni, Angelo Iorio, 47 che hanno perso la vita nell'incidente sulla Statale 17. In un attimo sono state spezzate le loro vite da una Mercedes che ha investito il SUV su cui viaggiavano. C'era tutta Boiano, oggi pomeriggio ai funerali, la chiesa piena e persone anche fuori, il dolore di parenti e amici, colleghi di lavoro di un'intera comunità, scioccata per una tragedia che ha portato via i cari, ai cinque figli, due adolescenti, una bimba piccolissima e due gemellini di quattro anni. L'amore di due persone definite da tutti belle, solari, lavoravano insieme nella stessa azienda. Un silenzio irreale ha accompagnato le due bare in cattedrale e poi all'uscita nell'Omelia. Il ricordo dei due giovani, le loro passioni, il loro amore per la vita che avevano ancora tutta davanti. A Boiano è stato proclamato il lutto cittadino. I commercianti hanno abbassato le saracinesche dei negozi, bandiere del municipio a mezz'asta. Anche alla luce degli ultimi tragici incidenti stradali, il Consiglio regionale ha deciso di tenere una riunione monotematica per affrontare la situazione delle infrastrutture viarie molisane. NETOM ha posto la questione all'attenzione del Governo nazionale e dopo l'incontro del 4 aprile sarà stabilita la data dell'Assemblea Palazzo da Invo. Sentiamo. Due terribili incidenti, sette morti in meno di 24 ore. L'argomento sicurezza sulle strade è tornato centrale ancora nel dibattito. Riunioni in prefettura ma non solo. Nonostante i controlli, è evidente che l'inosservanza di quanto prescritto dal codice della strada è la principale causa degli incidenti. Che poi il sistema viario molisano sia in condizioni pessime, vecchio, è un fatto sotto gli occhi di tutti e non ancora risolto, a prescindere dalle tragedie. Ad ogni modo si è riunita la conferenza dei presidenti dei gruppi in Consiglio regionale per discutere dell'opportunità di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea sul futuro delle strade molisane, strade sicuramente senza sé e senza ma, da innovare, ampliare, sarebbe il caso di Trignina e Bifernina, riorganizzare, rendere adeguate a un paese civile, così da garantire i collegamenti, il rischio isolamento è concreto nelle aree interne. La sicurezza agli automobilisti più servizi alle imprese. Durante la riunione, Toma ha riferito di aver chiesto alla Conferenza delle Regioni di parlare concretamente dell'infrastrutturazione del Meridione d'Italia e ha anche detto che si sta confrontando con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero competente, prossima tappa il 4 aprile. Dopo questa data, i capi gruppo hanno deciso di tenere la seduta monotematica del Consiglio regionale sulle infrastrutture, così da essere aggiornati sull'evoluzione del confronto con il Governo. Alle parole, ora però, devono davvero seguire i fatti. Non è pensabile, concepibile avere strade come quelle che ci sono in Molise, in molti casi vere e proprie mulattiere, pericolosissime, di promesse, annunci e proclami, se ne sono sentiti tanti, troppi, e il tempo per i proclami, gli interventi tampone, è finito. Servono lavori concreti e che risolvano definitivamente i problemi, rispondendo a quello che è un diritto dei cittadini che pagano le tasse, avere una viabilità adeguata, sicura e dignitosa. I carabinieri di Riccia hanno denunciato un marocchino di 47 anni per lesioni gravi. L'uomo, mentre era alla guida della sua macchina sulla provinciale 212, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. Il passeggero, che era con lui, è rimasto ferito, è portato d'urgenza al pronto soccorso del cardarelli di Campobasso. Il guidatore marocchino è stato quindi denunciato, resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine, per prevenire comportamenti illeciti alla guida, anche alla luce degli ultimi incidenti stradali. È stata restituita ai familiari la salma di un uomo di 74 anni di termoli, deceduto durante un intervento chirurgico al Santimoteo il 9 marzo scorso. Il paziente, già a febbraio, aveva subito un intervento al colon ed era andato in apparenza tutto bene. Poi, delle improvvise complicazioni, il ritorno in ospedale e la decisione di una nuova operazione, che però è stata fatale. I familiari hanno deciso di presentare una denuncia ai carabinieri che su ordine della procura hanno sequestrato la cartella clinica. Ieri, su disposizione del PM, è stata effettuata l'autopsia sul corpo del 74enne per chiarire le cause della morte. 60 comuni del centro-sud in rivolta contro lo Stato. Nel mirino delle amministrazioni locali il riparto del Fondo di Solidarietà. Più soldi al nord e meno al sud. Questa è la contestazione mossa dai comuni capeggiati in questa battaglia dalla consigliera regionale del Molise, Micaela Fanelli. Sentiamo Pasquale Di Bello. Asili nido, scuole, trasporti, assistenza sociale. Sono queste le principali materie che caratterizzano l'attività dei comuni italiani. Aspetti centrali per la vita dei cittadini che rischiano di essere compromessi dalla mannaia statale. 60 comuni in tutto il centro-sud, guidati da molte amministrazioni molisane, sono scesi sul piede di guerra contro l'intervento statale che ha taglieggiato risorse vitali, bloccando il fondo di solidarietà destinato alle amministrazioni locali. In pratica un meccanismo di solidarietà a sostegno dei comuni più poveri. L'intervento del Governo centrale ha mantenuto il livello di erogazione ancorato ai parametri del 2018, anziché parametrarli a quelli del 2019. Un trucco che fa perdere ai comuni italiani milioni di euro destinati ai servizi essenziali per i cittadini. A guidare la protesta dei comuni è la consigliera regionale del PD, di Micaela Fanelli. Ringrazio la sensibilità di tantissimi sindaci di ogni parte politica, ricordo sia Isernia che Campobasso, per citare i due esempi più rilevanti, per chiedere che non vengano ridotte ulteriormente le risorse per i servizi che diamo ai cittadini, che i comuni danno ai cittadini, e come consigliere regionale mi sono sentita in dovere di aiutarli a fare questa impugnativa. Non sono solo i munisani, ma anche i campani, nel frattempo anche i calabresi e i pugliesi. Che cosa è successo? Che con la legge di stabilità del 2019 si è bloccato il riparto per questo fondo, per quanto era necessario dare ai comuni. Una progressività che nel tempo avrebbe dato maggiore agio ai comuni. Ho fatto alcuni esempi. Per il Molise sono 23 milioni di euro sul totale. Per esempio io conosco il mio comune, di cui sono stata sindaco per quasi dieci anni, e sono quasi un milione di euro arriviamo a un taglio enorme se considerassimo il riequilibrio per il 100%. E così tutti i comuni che hanno aderito a questo ricorso importante. Adesso si discuterà a Roma al TAR, perché chiaramente l'impugnativa è nazionale. Dal mancato adeguamento del fondo di solidarietà al regionalismo differenziato, il rischio che si corre è quello di un'Italia spezzata in due e a due velocità. Una secessione strisciante tra nord e sud, tra regioni ricche e regioni povere, tutto in spregio alla Costituzione. Questo tipo di mancata per equazioni agevola chiaramente i comuni più ricchi e questo potrebbe capitare anche per le regioni. Siccome noi siamo convinti che l'Italia è una e che i diritti fondamentali dei cittadini, demoli sani, vanno garantiti in modo uguale a chi sta a Milano, a chi sta a Cagliari o in Campania, portiamo avanti una grande battaglia di civiltà, di impegno che ha visto tantissimi amministratori in prima linea. Non siamo passivi. Viene dal Molise questa battaglia. Io credo che con orgoglio sono molto convinta che il Molise è meglio di come si dipinge e quando viene fuori quest'animo non a suo effatto, io credo che sia un elemento molto positivo. È una battaglia che offriamo all'Italia e credo che se dovessimo aver ragione ci sarebbero molti comuni in condizioni di disagio dal Piemonte nelle aree interne o dalla Sicilia doppiamente svantaggiati che dovrebbero dire grazie al Molise. Massiccia adesione allo sciopero di 24 ore del personale ATM comunicato dai sindacati di Cisal, CGL, Cisle, Wille, UGL parlano del 90%. Hanno incrociato ancora una volta le braccia perché dicono l'azienda non paga gli stipendi, perché gli autisti lavorano su mezzi infatiscenti perché sono obbligati a ricorrere ogni mese ai decreti ingiuntivi per portare a casa il minimo salariale. Una avvertenza, hanno detto i sindacati che va avanti nell'indifferenza della politica e è evidente, hanno concluso che sul bando di gara e su un vero gestore unico non vogliamo farci prendere in giro il governatore Toma, è avvisato. Il caso Soste Blu continua ad agitare Isernia dopo le proteste popolari, le minacce di denuncia e la richiesta di dimissioni il sindaco ha sospeso l'intero appalto che prevede l'affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento a una società Umbra una sospensione cautelativa per cercare di capire cosa sia successo e perché siano state realizzate più Soste Blu di quelle autorizzate. Sul punto intervenuto a nome dell'amministrazione l'assessore Domenico Chiacchiari chiedendo scusa ai cittadini di Isernia promettendo di fare luce sulle responsabilità Enzo Di Gaetano Richiesta di dimissioni per il sindaco D'Apollonio e l'assessore Chiacchiari minacce di denuncia alla procura con D'Apollonio che ha detto di voler andare lui dai magistrati flash mob e blocchi stradali il caso Soste Blu e la proliferazione abnorme dei parcheggi a pagamento anche in zone di interesse storico sta agitando Isernia ma c'è di più lunedì mattina è previsto una manifestazione popolare di protesta di fronte al comune cosa aggiungere alla misura è colma il comune cerca di correre ai ripari prima di tutto ha bloccato i lavori per la realizzazione delle Soste Blu e poi l'assessore Chiacchiari si è rivolto alla cittadinanza per fare chiarezza e chiedere scusa a nome della giunta D'Apollonio ritengo a dire c'è stato un problema tecnico che stiamo risolvendo chiedo scusa in primis ai miei concittadini però diciamo che sono situazioni che possono succedere sì però assessore nessuno che controlla neanche questa è una cosa che dimostra l'efficienza del comune questi sono venuti fanno le strisce plute da tutte le parti e nessuno del comune che dice fermi fermatevi cioè avete aspettato le proteste popolari per fermarvi sì questa è una cosa che poi stiamo vedendo con l'ufficio quello che è accaduto naturalmente ci deve essere il controllo quando si fanno le cose bisogna che anche chi deve deve lavorare bene e chi doveva controllare deve controllare però ritengo che è un incidente di percorso che deve essere risolto e sarà risolto comunque sia la questione è nata dalla protesta popolare così anche a Iserni è stata la gente normale cittadini i commercianti che hanno fatto suonare la sveglia per l'amministrazione facendole capire che c'era qualcosa che non andava si parlava anche di dimissioni sue di dimissioni da Bollonio insomma che ci sta dietro che sta succedendo allora noi siamo partiti dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei parcheggi a pagamento siamo partiti con il rifacimento delle strisce blu e ci siamo accorti subito specialmente quando sono state realizzate quelle in corso di sorgimento che qualcosa non quadrava rispetto a quello che noi avevamo votato in consiglio comunale e approvato con delibere di consiglio comunale dove vengono individuati gli stalli a pagamento che erano più di 800 827 stalli 822 uno più uno meno e diciamo che rispetto a questo dopo che ci siamo accorti che qualcosa non andava abbiamo visto le carte e effettivamente quello che era stato il numero che era stato messo a gara era diverso da quello che noi avevamo approvato in consiglio comunale quindi il sindaco ha subito bloccato i lavori e stiamo sistemando adesso le carte vediamo come fare diciamo che dovremmo parlare con la ditta che si è giudicata i lavori e speriamo di risolverlo a più presto ci sono state polemiche giustificate ritengo e anche io chiedo scusa ai concittadini perché in alcune zone dove sono state fatte le strisce blu non erano previste il nostro intendo era quello di rifare le strisce blu dove erano già presenti più alcune zone dove non esistevano assolutamente e l'assessore Chiacchieri promette anche marcia indietro per quel che riguarda le strisce blu nel centro storico come quelle per esempio messe davanti Palazzo Iadopi vicino la Fontana Fraterna se leggete attentamente la delibera di consiglio comunale lì non era prevista nessuna striscia blu e ritengo che sia necessario un intervento per eliminare velocemente quelle strisce su quelle pietre del centro storico ma ritengo che adesso ci siamo un po' calmati ci siamo seduti con l'impresa stiamo cercando di risolvere il problema che sarà risolto e ci tengo a dire se partiranno le strisce blu devono rispettare quello che il consiglio comunale ha votato e ha votato con la maggioranza ma anche con quasi l'appoggio totale della minoranza fin qui chiacchiere e chiudiamo con l'ex senatore D'Ambrosio che ironicamente parla di un'isernia affranta per la rinuncia di Dapolloni alle dimissioni e chiede chi pagherà il conto delle strisce blu che dovranno essere cancellate insomma la politica in calza e lunedì sera si prevede un consiglio comunale al calor bianco a Campobasso i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno tenuto una conferenza stampa per criticare la decisione dell'amministrazione comunale di acquistare la nuova sede per la seala municipalizzata una vicenda sulla quale è intervenuta anche l'ANAC i dettagli nel servizio di Anna Maria Di Matteo la consigliatura comune di Campobasso volge ormai al termine ma alcune questioni sono rimaste irrisolte il caso della SEA finita spesso nel mirino dei consiglieri del Movimento 5 Stelle sia per quanto riguarda la gestione del servizio sia per quanto riguarda le nomine in seno al Consiglio di Amministrazione ma a tenere banco in queste ultime settimane sicuramente l'acquisto della nuova sede costo dell'operazione quasi 340 mila euro abbiamo sollevato questo problema sin dall'inizio abbiamo ritenuto che l'acquisto fosse improbido perché il comune avrebbe potuto tranquillamente mettere a disposizione della municipalizzata che è appunto del comune un immobile a costo zero questo non è avvenuto hanno deciso di acquistare un immobile tra l'altro vecchio violando quelle che in qualche modo erano le regole che loro stessi avevano richiesto e in questo caso noi abbiamo un immobile da ristrutturare dopo un anno non è stato fatto almeno apparentemente nessun lavoro paghiamo un affitto e l'anac in qualche modo ha deciso dopo il nostro esposto di agosto del 2018 di aprire un fascicolo un'istruttoria per capire il perché c'è stata questa decisione di andare di derogare alle regole stesse che la Sè aveva chiesto l'operazione di risparmio è fallita ma sicuramente era già fallita dal momento in cui hanno deciso di acquistare una sede ecco questo è il punto avremmo potuto prendere quei soldi utilizzarli sicuramente per fare altro e non per comprare un nuovo immobile quando ripeto il comune ha già degli immobili da destinare avrebbe potuto tranquillamente destinarli a questo scopo e poi ci sono gli incarichi anche questo è un tema sul quale siete tornati e siamo tornati su questo perché appunto il CDA in scadenza loro stanno per approvare il bilancio di esercizio l'ultimo di questo CDA e chiaramente da statuto il CDA decadrà quindi lì la decisione sarà poi del sindaco di scegliere se rinnovare il CDA ma in questo caso rinnovarlo per tre anni sarebbe un'assurdità posto che come tutti sanno ormai a maggio andremo a votare quindi è una prerogativa del nuovo sindaco scegliere un CDA di fiducia o un amministratore unico al quale affidare la gestione della SEA speriamo in modo più felice a Venafro i carabinieri hanno arrestato due romeni che avevano tentato di rubare due mezzi pesanti per il movimento terra del valore di 200 mila euro parcheggiati in un'azienda i due erano sono stati individuati subito dopo le prime attività di indagine e portati poi nel carcere di Isernia allarme bomba questa mattina liceo scientifico liceo classico di Termoli questa volta non è arrivata una telefonata anonima ma qualcuno ha lasciato un biglietto attaccato ai cancelli qualche ora prima dell'apertura nella scuola c'è materiale esplosivo così è stato scritto sul foglio immediata è stata la chiamata a carabinieri e polizia da parte del personale le due scuole è stato necessario effettuare un sopralluogo negli istituti per accertarsi che si trattasse appunto di un falso allarme gli studenti hanno atteso per tutto il tempo davanti scuola solo dopo le 9 e a controlli ultimati gli alunni hanno avuto il via libera per entrare a scuola si chiude a distanza di 13 anni dai primi arresti il maxiprocesso Black Hall che per competenza territoriale era stato spostato a Bari per gli unici 10 imputati rinviati a giudizio è intervenuta la prescrizione Manuela Iorio il maxiprocesso Black Hall finisce con una dichiarazione di prescrizione per i 10 imputati gli unici tra i tantissimi iniziali ad essere stati rinviati a giudizio lo ha deciso il giudice Ambrogio Marrone presidente della prima sezione penale del tribunale di Bari dove il processo era stato trasferito per una questione di competenza territoriale migliaia di pagine e due diverse indagini poi confluite in un'unica inchiesta che coinvolse politici professionisti forze dell'ordine e che tra il 2006 e il 2007 portò ad arresti eccellenti provocando un terremoto nella sanità e nella politica del basso molise in particolare 114 gli indagati per 4 di loro il processo è rimasto a Larino e con rito abbreviato sono stati assolti il gruppone dei 110 invece era comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare di Bari nel 2015 a distanza di 9 anni dai fatti contestati e già in quell'occasione quasi per tutti venne deciso il non luogo a procedere con varie formule di proscioglimento alcuni di loro sono stati anche rimborsati per l'ingiusta detenzione solo in 10 vennero rinviati a giudizio con l'accusa di peculato per loro è iniziato un processo andato avanti molto lentamente con soli due testimoni ascoltati fino al gennaio 2019 quando è cambiato il collegio di giudice i difensori hanno chiesto nuovamente di riascoltare i due testi nell'ultima udienza il capitolo finale quando i magistrati hanno dovuto dichiarare il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati l'unico rimasto in piedi quello di peculato in riferimento all'ecografo del reparto di ginecologia del santimotio finito in uno studio privato e alla bonifica fatta effettuare negli uffici del comune di termoli di termoli dalle cimici messe dai carabinieri si chiude così con una voragine nell'acqua come commentato dall'avvocato Antonio De Michele l'inchiesta che più ha fatto scalpore nella storia giudiziaria della regione un giovane autista di Ripa Limosani era accusato di ricettazione perché secondo l'accusa aveva trasportato sul camion della ditta per la quale lavorava un piccolo escavatore di presunta illecita provenienza svolto il giudizio penale è stato dimostrato come non soltanto il mezzo operativo non avesse un'illecita provenienza ma in realtà fosse oggetto di pretestuosa e in verità denuncia di furto la difesa svolta dall'avvocato Domenico D'Antonio del Foro di Campobasso ha così evitato al giovane autista un'ingiusta condanna per un reato grave e comunque risultato non commesso dall'imputato oltre 100 sindaci e amministratori provenienti da diverse regioni italiane si sono dati appuntamento a Fornelli per l'Assemblea Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia in campo per dare maggiore visibilità alla nostra regione il servizio di Sergio Di Vincenzo Per la prima volta è stato scelto il Molise per l'Assemblea Nazionale dei Borghi d'Italia e Fornelli ha risposto alla grande mettendo in campo un'accoglienza perfetta decine di sindaci sono arrivati da quasi tutte le regioni italiane per discutere delle strategie da mettere in campo per migliorare le varie offerte turistiche ma anche per scoprire e promuovere le eccellenze della nostra terra Credo che sia la cittadinanza che il sindaco che la regione siano abbastanza soddisfatti di questa visibilità che poi a livello nazionale noi siamo in grado di dare a questa regione che dal punto di vista turistico ha sicuramente bisogno ancora di crescere di farsi conoscere ma soprattutto mi auguro che possano mettere in campo investimenti e risorse per garantire una ospitalità diffusa un sistema di accoglienza ben organizzato anche un'internazionalizzazione che deve cominciare a farsi vedere Per Fornelli la tre giorni di manifestazioni organizzate in paese rappresenta senza dubbio un'ottima vetrina un risultato che non è frutto del caso ma di un progetto partito da lontano e che ha puntato soprattutto su un cambio di mentalità è una vetrina importante è il premio di tanti anni di sacrifici di impegno fatto dalla nostra amministrazione per rivalutare riqualificare e promuovere il nostro borgo non solo a livello infrastrutturale ma anche a livello soprattutto di coscienza di approccio a quello che è una valorizzazione che parte dal basso coinvolgendo tutti i cittadini coinvolgendo le attività e cercando di promuoverci all'esterno quindi è un modello che sta iniziando a dare i suoi frutti c'è ancora da lavorare ma molto è stato fatto e questi risultati mi gratificano il turismo di nicchia quello dei piccoli borghi può rappresentare senza dubbio un'importante risorsa per la nostra regione il piano strategico per il turismo e la cultura in fase di elaborazione e fondi stanziati per la micro ricettività vanno proprio in questa direzione la forza del Molise sono i borghi noi vogliamo l'industrializzazione vogliamo promuovere l'artigianato vogliamo promuovere il commercio ma un'attività che è promuovibile immediatamente è proprio quella turistica in ragione dello sgruppo dei borghi immediatamente impiegato 16 milioni di euro a favore della micro ricettività le domande si sono chiuse il 15 scorso e abbiamo ottenuto un grande successo di richieste siamo a 563 domande se la memoria non mi inganna ne abbiamo già esaminate 150 e stiamo continuando canti e suoni del Matese della tradizione molisana è la proposta in scena domani al dopolavoro ferroviario di Campobasso con il concerto del gruppo Zampognari del Matese voce solista Maria Emanuele che all'attività didattica affianca quella artistica portando la tradizione musicale molisana in diversi eventi all'estero il concerto domani dalle 17 è tutto termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito arrivederci